Faccio una piccola pausa rispetto a Giuseppe Mazzini, però vedrete che in realtà è sempre nell'ambito mazziniano. Allora, recentemente si torna a parlare del fatto che la Chiesa è dialogo. Questa espressione l'ha utilizzata in un articolo su Avvenire, Monsignor Stagliano. La Chiesa è dialogo. Allora, i Vangeli, tutti i padri della Chiesa, sempre nella storia della Chiesa, si è parlato del fatto che la Chiesa porta il Vangelo. La buona notizia, quindi, la Chiesa è annuncio. La Chiesa è annuncio, certo, come annuncia la Chiesa? Il Vangelo con la spada? No. Parlando con le persone, con carità. Caritas Christi urget not nos. Ci spinge la carità di Cristo. A dire che cosa? A salvare gli uomini. Con cosa? Con l'evangelizzazione, con la buona notizia. Però, da qualche decennio a questa parte, la parola dialogo è diventata molto importante all'interno della Chiesa. Ma questa parola, a mio modo di vedere, è stata così tanto diffusa perché ha subito l'influenza di un pensiero che non è cristiano, è massonico. Sentite come parla un mazziniano, ecco, torniamo a Mazzini, che si chiama Giuseppe Ricciardi, che è quello che voleva convocare a Napoli l'anticoncilio, quando nel 1870 Pio IX convoca a Roma il concilio vaticano. Lui ha il concilio, noi l'anticoncilio facciamo, questo qui. Giuseppe Ricciardi scrive in un opuscoletto del 1871, Mazziniano, Il gran punto sta nel dividere il Papa dal maggior numero di cattolici. Modo lento, modo lento, ma certo, a combattere e spegnere il mostro chiamato superstizione cattolica, il quale si incarna nel Papa e nell'esercito clericale, sì numeroso e sì ben ordinato, quindi qual è il modo migliore per allontanare i cattolici dal mostro, che è la superstizione cattolica incarnato dal Papa e dai clericali? Il modo migliore è la libera discussione, il dialogo. La libera discussione, il cui suono rintrona ormai fin dentro le mura del Vaticano. L'insistenza della libera discussione, cioè del dialogo, non è l'essenza del cristianesimo. Noi siamo chiamati a annunciare che cosa diversa, siamo chiamati a farlo con carità, che non è tolleranza, è infinitamente superiore alla tolleranza, che infatti è tolleranza per quelli che la pensano come noi. L'autore dell'epistola sulla tolleranza, John Locke, lo scrive chiaramente, tolleranti con tutti, meno cognati e cattolici. Quindi forse conviene ricordarsene queste cose, conviene ricordarsi qual è l'eziologia delle parole tanto pubblicizzate ai nostri giorni. Grazie.